Sono state presentate ai cittadini di Scafati le nuove agevolazioni sul pagamento delle bollette dell'acqua deliberate dal Consiglio di distretto sarnese vesuviano dell'ente idrico campano. Si tratta di bonus idrico integrativo e stop morosità, due azioni finalizzate a fornire un aiuto concreto alle famiglie per le quali sono stati stanziati complessivamente circa 8 milioni di euro. Un momento difficile, di difficoltà, sicuramente la proposta del Consiglio di distretto lente idrico campano ha dato una soluzione importante alle tante difficoltà che purtroppo quotidianamente affrontiamo in tema di politiche sociali e in tema anche di sofferenza delle nostre comunità. Una misura per andare incontro alle difficoltà delle persone perché mai come in questo periodo avere un aiuto in bolletta è importante. È una misura che va ad aiutare però a determinate condizioni queste famiglie nel senso che l'Isee per quanto riguarda il bonus integrativo che è di 200 euro deve essere di 12 mila euro, mentre invece l'altra misura di stop alla morosità che è di 500 euro va dato a famiglie che prescindendo poi dall'Isee hanno avuto difficoltà familiari insomma una malattia, la perdita del lavoro, un infortunio o qualcosa e quindi pur avendo un Isee superiore a 12 mila euro possono versare in condizioni di difficoltà. Sono oggi contento e felice di venire a testimoniare su un territorio importante come la città di Scafati il grande lavoro messo in campo dal distretto che ho l'onore di coordinare. Scafati è una città importante ma con la nostra guida tutti i comuni del nostro distretto sono parlementi importanti perché sono i comuni i luoghi principali in cui il nostro lavoro deve essere svolto e in cui il nostro lavoro deve mettere dei frutti. Noi che gestiamo oggi con grande umanità e con grande solidarietà questo sistema, che è il sistema integrato, vogliamo tendere la mano a tutti i cittadini, comprendiamo le difficoltà e invece di giudicare o di guardarci dall'altra parte diciamo con grande forza che accanto a queste difficoltà, accanto alle famiglie, da oggi possono trovare l'entitico campano in partenza del nostro distretto e il nostro gestore che con noi collabora con grande forza e grande dedizione. Siamo riusciti a intercettare con Gori un finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e anche del REACT EU, che erano i fondi nazionali che erano stati stanziati per ridurre le perdite di rete e interveremo a brevissimo anche su Scafati per tentare di dare ai cittadini un servizio idrico migliore per provare a dimostrare che la buona politica paga.